Tramontata l'ipotesi di portare nelle corsie dell'ospedale i molisani i medici militari, l'unica soluzione che il Ministero della Salute è intenzionato ad autorizzare è il prestito di camici bianchi dalle altre ASL. Prestazioni aggiuntive che peseranno sui conti dell'ASREM, ma d'altronde chiudere i reparti rimane l'unica alternativa. Il rischio per la salute dei cittadini sulla bilancia pesa molto più dei turni pagati 60 euro a ora. Tamponata l'emergenza, ortopedici a Termoli e a Isernia restano critiche le dotazioni di pediatri, ginecologi e medici di pronto soccorso. Quella che inizia domani dunque sarà una settimana decisiva per capire se da altre ASL potranno dare supporto a quella del Molise oppure la direzione generale, insieme alla struttura commissariale, dovrà prendere decisioni drastiche almeno per i mesi estivi e finché gli effetti dei concorsi aperti agli specializzanti non si avranno. Il decreto Calabria è fondamentale per lo sblocco del turnover, bloccato di nuovo da metà maggio più o meno, quando in regione e all'ASREM è arrivato il verbale del tavolo tecnico sul disavanzo 2018. Con il provvedimento per la sanità calabrese lo stop alle assunzioni in caso di deficit viene abrogato. Nel frattempo però sono ferme le assunzioni, tutte anche quelle degli infermieri che hanno superato la selezione per rientrare in Molise con la mobilità e i reparti sono in affanno anche per la carenza di infermieri. Per uscire indenni dal combinato disposto blocco del turnover, turni di ferie, la direzione dell'azienda di Via Petrella ha proposto un piano di emergenza basato sullo straordinario, ci vuole un sacrificio in più, retribuito ma pur sempre sacrificio per chi lavora da tempo in affanno, che consentirebbe di tirare avanti per questi mesi. Grazie.